Amici appassionati di tecnologia, ben ritrovati sul canale, come vi avevo detto, iniziato l'anno, sarebbero arrivati tanti prodotti e, beh, non vi ho mentito, intanto si inizia con questi tre pacchi, uno è già qua pronto e spacchettato, gli altri due sono un mistero allora, mettetevi comodi e andiamo a vedere questo unboxing tecnologico Cominciamo con il pacchetto scoperto Galaxy A22 nella versione 4G, perché? Perché ha un display Super AMOLED, anche se poi vedremo la qualità, si fermerà all'HD+. Andiamo a accenderlo e vi faccio vedere la confezione di vendita, un caricatore Samsung, un cavetto USB tipo C, la spillettina e praticamente nient'altro perché la manualistica credo che non interessi a nessuno Bene, confezione vista, questa è la scatolina, andiamo a inizializzare il telefono Come vi dicevo, un 6.4 pollici con una risoluzione Super AMOLED HD+, 4GB di RAM e 64GB di memoria Come potete vedere non è velocissimo ad accendersi, intanto vi dico che pesa 186 grammi È abbastanza sottile, 8.4 mm di spessore, lo giro, policarbonato che cattura secondo me un pochino le impronte 4 le fotocamere, ve le faccio vedere messe un po' in questo modo che ricorda un iPhone di ultima generazione 48 megapixel la principale, 8 wide 2 più 2 per la profondità e il bocchè Le fotocamere che contano quindi sono solamente due, ma andiamo velocissimi Accensione, blocco, sblocco, bilanciere del volume dall'altra parte, carrellino SIM slot ibrido E un menu, eccolo qua, visto e rivisto di Samsung, qui col Samsung account in bella mostra L'info sul telefono ci fanno vedere One UI 3.1 con Android 11 Quindi ancora non è arrivato Android 12, comunque sia il dramma, o fra virgolette il punto debole dello smartphone E avere un display in HD+, in realtà essendo un Super AMOLED è un display più che sufficiente Ci sono display secondo me molto molto più brutti per essere HD+, qui siamo su un ottimo livello Ma andiamo avanti, vi faccio vedere anche rapidamente le fotocamere con la modalità ritratto, video Video che vengono registrati a un massimo di full HD, 30 frame per secondo E torniamo sulla fotografia perché vi faccio vedere anche la grande angolare da 8 megapixel Una batteria da 5000 mAh, anche la porta di tipo C, il jack audio Audio che esce in una modalità sola, quindi audio mono Staremo a vedere se questo smartphone uscito nel 2021 ad oggi sarà ancora una scelta valida Lo mettiamo da una parte perché adesso si va avanti con l'unboxing Andiamo a strappare tutto ciò che troviamo a livello di plastichina che protegge questo pacco E cosa troviamo? Troviamo ancora un dispositivo Hot Wave con la stessa scatola che avete già visto Andiamo a vedere la confezione che si apre in questo modo qua E vi dico che all'interno troviamo questo Troviamo la stessa immagine del Cyber 8 Troviamo una pellicola sostitutiva di vetro E poi lui troviamo questo smartphone qua Che è diciamo il fratello potenziato del Cyber 8 Si chiama Cyber 7 Ed è un bestia, un bestione di rugged phone Eccolo qua Il nostro Cyber 7 Che è anche 5G Già dalla velina si riescono a capire tutte le caratteristiche Ve le leggo 6.3 pollici full HD plus Android 11 Un elio a bordo 8-128 Abbiamo una caratteristica fondamentale Che contraddistingue lo smartphone dagli altri Una 20 megapixel di fotocamera con night vision E una super batteria Eccola qua Ovviamente rugged phone con resistenze a qualsiasi bomba nucleare Eccole qua Lo slot delle fotocamere Che sono ben 48 megapixel Una 8 wide 2 per il ritratto E l'ultima questa qua è quella da 20 megapixel Aiutata da questa Questa V qua sotto Che genera un raggio a infrarossi Per vedere meglio nella notte Ovviamente c'è l'uscita audio L'inserto per il lacettino E tutte le prese sono super protette Anche qui come il Cyber 8 Stessa composizione Abbiamo il tasto di accensione Abbiamo il pulsantino Che riconosce l'impronta digitale Andiamo a togliere l'avelina Che praticamente toglie La pellicola preapplicata Non è rimasta qua ragazzi Stranamente qua non troviamo pellicole di fabbrica Quindi questa è solo una velina Che copre il display E mostra tutte le informazioni principali Prima di inizializzarlo Vi faccio vedere il contenuto Della confezione di vendita Alloggio del tuo smartphone Un caricatore griffato hotwav Con la solita uscita 3A Caricatore da 18W E cavetto USB tipo C E adattatore tipo C jack audio Oltre a tutte queste istruzioni qua Bene andiamo adesso a vedere il telefono Poi applicheremo la pellicola Un display sicuramente molto molto bello In full HD Plus Vediamo se riesco a farvelo vedere Sì Guardate belle queste icone Per essere un rugged phone Uno dei display più belli Secondo me in circolazione La scritta 5G Ci fa sempre piacere E' anche difficile trovarla Su questo tipo di telefonino Andiamo in fondo Ovviamente la traduzione è così così Un po' italiana Un po' inglese Un po' italiana fatta male Abbiamo un aggiornamento di sistema Quindi andiamo a mettere in play L'aggiornamento Abbiamo le gesture Vi faccio vedere il menu a tendina Eccolo qua E andiamo anche con tutte le app in orizzontale Vediamo un po' quanto sono grandi i bordi Per forza perché è un rugged phone Queste sono le traduzioni SOS Gesture settings Le tre dita Il movimento con le dita E il movimento intelligente Poi lo vedremo nella recensione 119 giga a disposizione La navigazione del sistema Per i gesti o pulsantini in basso Con i gesti Sentiamo anche la vibrazione Dello smartphone Display con tema scuro Non è un AMOLED Però i neri mi sembrano abbastanza buoni Sono neri leggermente sbiaditi E vi ripeto Su un rugged phone Difficile trovare display Di questo livello Ovviamente lo possiamo battere ovunque Boom 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 Non si rischia mai di fargli del male Lo possiamo immergere in acqua A farci la doccia A quello che ci pare È bello pesante E super batteria Abbiamo letto poco fa 8.280 mAh Chissà in quanto lo ricaricheremo A 18 Watt Non lo so Solita traduzione fatta così così I video Vengono realizzati In quale qualità Vediamo un po' se lo troviamo Qualità dei video Full HD Volevo attivare la Night Vision Eccola qua Poi magari la Ne parleremo con più attenzione Nella recensione Perché adesso voglio andare Molto molto rapidamente Nient'altro da segnalare Io quasi quasi Lancio l'aggiornamento E passerei Al ultimo pacco Eccolo qua Andiamo questa volta però Ad inciderlo Perché non riesco A tagliarlo Ad aprirlo da solo Cosa troviamo all'interno Troviamo Via tutto Troviamo ben Due orologi Andiamo un po' a vedere Che cosa è arrivato Ragazzi Qui si parla di Cloni Del marchio Mela morsicata S7 Ce lo manda Kiwi Time E Ancora Immagino Un altro orologio Via tutto I7 Mini Le confezioncine Sono belle Colorate Anche se Beh qui Non ci sono traduzioni Andiamo Ad aprire L'S7 Andiamo ad aprire I7 Mini Eccoli qua Massware E Questo È Il piccoletto Con traduzione In inglese E in cinese È confezionato Molto bene Quindi All'inizio Ci vorrà Qualche secondo Per aprire Cinturino Primo piano Sul cinturino Mi sembra anche Bello fresco Come TPU E questo È Il quadrante La cassa Con L'orologio Nella versione mini Troviamo 41 mm Di cassa Con ovviamente La ghiera Rotante Con il pulsantino Magico E il microfono E l'altoparlante Ovviamente È partito Una musichetta Simpatica Il quadrante È animato È abbastanza Anche veloce Non mi aspettavo Da un orologio Economico Uno scrolling Del menu Così Così rapido Abbiamo la possibilità Di telefonare Ovviamente Connessi al nostro Smartphone Alla nostra rubrica Rubrica che dovrebbe Apparire qua E poi Vabbè I messaggi Lo sport Sleep Andiamo a Vedere rapidamente Tutte le impostazioni Ma non voglio Ci sono anche i giochini Guardate un po' Chissà come Come funzionano Eccoli Quindi con uno swipe Andiamo A evitare Tutte le macchine Torniamo Indietro Giochiamo Anche Alla Guerra Galattica Ma Sono cose Che secondo me Andrebbero viste Nella recensione Ancora L'animazione Del display Che è notevole Volevo farvi vedere Tutti i quadranti Che si possono Selezionare Tutti Questi Qua Ne scelgo uno A caso Questo Ma nella confezione Andiamo Finiamo con l'unboxing Troviamo ovviamente Il caricatore usb Con i pin di ricarica E la Manualistica Con il QR code Per scaricare Massware E andiamo a vedere Cosa troviamo Nella confezione Di S7 Manualistica Leggermente diversa Cambia la forma E lo spessore Cambia anche Il caricatore Eccolo qua Proprio Classicissimo Da clone E Questo è L'orologio Che non ha più La cassa Da 41 Ma ha Una super cassa Da 45 Millimetri Troviamo anche Applicata Una pellicola Sul display Magari in Controluce La riusciamo A vedere Vediamo se è carico Anche lui Si Si è acceso Molto più velocemente Anche lui Ha un Quadrante Stile Apple Watch Qui secondo me Siamo su un livello Ancora migliore Perché il display È molto Molto bello Ve lo faccio vedere In questo modo Guardate belle Anche le animazioni Notevole Ragazzi Per essere Un clone Siamo su Dei livelli Molto molto Altri Vi alzo La luminosità Vediamo se Il display Diventa ancora Più bello Eccolo qua Insomma Potete sbizzarrirvi Poi la rotellina Una volta premuta Ci fa Vedere Tutte le Applicazioni Vedete Più grandi Più piccole Messe in verticale E non così sparse Potete scorrere Con la rotellina Andiamo a premere Anche il pulsantino Che accende O spegne il display Abbiamo Il microfono Anche qui E l'altoparlante E questo È il posteriore Insomma Io Direi che Di Argomenti Di cui Parlare Ne abbiamo Ne abbiamo Tanti Questi sono I menu A disposizione Sui due Dispositivi Cambiano Ovviamente Le forme Le icone E la disposizione 41 mm E 45 A seconda Della vostra Preferenza Credo di avervi Detto tutto Quindi Io Per oggi Mi fermerei qua Perché altrimenti Abbiamo Troppo Troppo Andiamo Troppo Inoltre Con le Informazioni E con questo Unboxing Direi che Possiamo Salutarci Grazie Per l'attenzione Mi raccomando Cari ragazzi Continuate a seguirmi Perché in questi giorni Continueranno Ad arrivare Un casino Di oggetti Speriamo di avere il tempo Di farveli vedere tutti Like a palla Ci vediamo prestissimo Con queste recensioni Ciao